Nel contesto esoterico, la visione di filmati a luci rosse è un'attività che influisce sulle energie sottili di un individuo in modi specifici indebolendolo profondamente. Ecco come agisce la visione di questa spazzatura sulla nostra mente. 1. Dispersione dell'energia vitale Nelle tradizioni esoteriche che enfatizzano l'importanza dell'energia vitale o sessuale, conosciuta come kundalini nell'induismo, chi nel taoismo, eccetera, Questi filmati sono un mezzo che porta alla dispersione o al maluso di questa energia. Invece di utilizzarla per la crescita spirituale o la creatività, viene dispersa in un'attività che è vista come fisicamente gratificante ma spiritualmente vuota. 2. Impatto sui chakra La visione di questo materiale pornografico influenza in particolare il secondo chakra, svadistana, associato alla sessualità e alla creatività. Un uso eccessivo o distorto della sessualità può portare a uno squilibrio in questo chakra, influenzando negativamente la salute emotiva e spirituale. 3. Connessione con energie inferiori La visione di questi filmati comporta un allineamento con energie più basse o più grossolane. Questo porta a una connessione ridotta con le energie superiori o più sottili, che sono associate alla crescita spirituale e alla consapevolezza superiore. 4. Effetti sul campo aurico Alcune tradizioni esoteriche sostengono che le attività e i pensieri di un individuo influenzano il suo campo aurico. La visione di questi filmati introduce energie disarmoniche o impure nell'aura, influenzando la sua qualità energetica complessiva. 5. Distorsione del desiderio e dell'amore La visione frequente di questi filmati porta a una distorsione della percezione del desiderio, dell'amore e delle relazioni. Questo può creare disarmonia nei rapporti interpersonali e un senso di disconnessione dalle vere esigenze emotive e spirituali. Riconoscere l'impatto di questi filmati sulla propria energia e crescita spirituale è un passo importante verso la trasformazione personale. Lavorare su questi aspetti può portare a una maggiore comprensione di sé, maturità emotiva e sviluppo spirituale. In sintesi, dal punto di vista esoterico, la visione di filmati a luci rosse è un'attività che disperde o distorce l'energia vitale e creativa, influenzando negativamente i chakra, il campo aurico e la crescita spirituale.